Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale ho appena finito di vedere un film meraviglioso What if e se fosse andata diversamente è un film meraviglioso che me l'ha consegnato un ragazzo che fa parte del gruppo telegram è meraviglioso non ho altre parole veramente ringrazio max per avermi dato questa dritta di questo film che non conoscevo e sono rimasto sulle spine fino all'ultimo ho pianto come un dannato proprio a livelli subatomici perché mi ha preso dentro mi ha preso proprio il cuore perché comunque ti spiega l'importanza delle decisioni che prendiamo che una volta una decisione difficilmente torniamo indietro e quindi bisogna saggiamente prendere le nostre decisioni ma come non con la testa ma con il cuore sempre con il cuore il cuore non ti mente mai anche se va contro tutti anche se va contro chi conosci contro la società contro la famiglia contro le persone care seguire sempre il proprio cuore e fare ciò che ripetiamo più giusto seguendo sempre il nostro cuore questa è una delle cose fondamentali che ho imparato guardando questo fantastico film un film che vi consiglio caldamente molto bello non ce l'ho fatto a trovarlo completamente in italiano me lo metterò sottotitolato qui sotto con i sottotitoli in italiano audio in inglese se poi in futuro riuscirò a trovarlo lo sostituirò normalmente e lo troverete totalmente in italiano io vi auguro una buona visione il link del film lo troverete qui sotto in descrizione e buona visione film veramente strepitoso grazie ancora max grazie a tutti